Una carrellata di barzellette adattate all'italiano. Come si chiama una fila di 99 conigli che fa un passo indietro? Una linea di pelo in ritirata. Perché l'albero femmina si è innamorato dell'albero maschio? Era appiccicoso. Due pesci sono in un carro armato. Il primo dice, guido io. Il secondo, io gestisco i cannoni. Come si chiama una mucca che salta una recinzione di filo spinato? Distruzione totale. Metti sempre gli occhiali da sole al tuo albero. Così, avrai l'ombra giusta. Quanto pesa un elefante cinese? Un wonton.